Resta acceso il dibattito sul salario minimo, le opposizioni hanno presentato una proposta unitaria, dal centro-destra un'apertura della Meloni, però finora di concreto nulla. La Presidente del Consiglio Meloni si è resa conto che gli italiani sono a favore di una misura di civiltà, i sondaggi ci dicono che più del 70% degli italiani ritiene non più rinviabile una normativa che introduca il salario minimo, perché 3 milioni di lavoratori che sono al di sotto dei 9 euro non significa che si possa andare avanti in questa direzione senza sentire lo scrupolo di dover rinviare per perdere ulteriore tempo, che è quello che ci sembra vogliono fare nel centro-destra, perché in realtà non hanno delle idee o quelle che hanno sono ben confuse. Una delle accuse di Meloni è che il centro-sinistra quando era al governo non ha barato questo provvedimento, lei che cosa dice? Il governo del centro-sinistra, l'ultimo pienamente, è quello che è stato presieduto da Matteo Renzi e da Paolo Gentiloni subito dopo, evidentemente in quella stagione si è sbagliato a non introdurre un salario minimo, vi era una forte opposizione delle parti sociali che tendevano a rinviare tutto alla contrattazione collettiva. La pratica che invece abbiamo vissuto, soprattutto negli anni successivi, è che complici anche i contratti pirata, in Italia di fatto si derogava a un minimo ideale che è la media del salario nazionale troppo spesso e oggi abbiamo, come dicevo poc'anzi, circa un lavoratore su quattro che percepisce al di sotto dei 9 euro. Più in generale c'è un problema di potere d'acquisto, inflazione, contratti non rinnovati, insomma per il lavoro dipendente sono come sempre, ormai da molti anni, tempi bui. Sì, sicuramente avremmo potuto fare di più in passato e non lo abbiamo fatto, ma oggi è diventato un tema strategicamente importante perché l'inflazione che abbiamo vissuto anche a causa della forte ripresa dopo la crisi pandemica e la crisi ucraina che ovviamente ha fatto crescere di gran lunga i prezzi, hanno determinato una tassa piatta che si chiama inflazione che ha falcidiato soprattutto i redditi fissi, i redditi da lavoro dipendente.